Carissimi concittadini, con il nuovo decreto ministeriale siamo stati inseriti nella zona rossa perché siamo una zona a cuscinetto con la Lombardia. La situazione a Borgomanero però è sotto controllo nulla è cambiato nelle ultime 24 ore, dobbiamo solamente tutti assieme attenerci a quelle che sono le regole del nuovo decreto. Come vi dicevo ieri quello che vi consiglio è di rimanere a casa e di evitare contatti con altre persone, questo è molto importante. Se è aggiunto nel nuovo decreto questa cosa i bar, ristoranti, pizzerie dovranno rispettare degli orari di apertura che sono dalle 6 alle ore 18 con obbligo da parte del gestore di garantire le distanze minime di sicurezza che sono quelle di almeno un metro tra le persone. Altra cosa molto importante sono che i punti vendita di genere alimentare rimarranno aperti con i soliti orari e saranno riforniti regolarmente, pertanto si chiede di evitare assembramenti in questi supermercati. Quindi lo ribadisco saranno riforniti regolarmente, quindi il cibo non mancherà. Gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico tranne i servizi essenziali che sono l'anagrafe e lo stato civile. Per qualsiasi informazione potete sempre verificare sul sito del comune, della provincia o della regione Chiemonte. Io quello che vi chiedo è di cercare di vivere in modo regolare la nostra vita senza creare grandi allarmismi. La situazione è questa e quello che vi chiedo è rispettate quello che vi stiamo dicendo.